...foto di Canenco Alla è stata premiata come terzo classificato per la foto di un incontro di compagni di classe. Questa foto è molto simbolare, molto bene, perché compagni di classe era una panchina con su 4 o 5 cani. I ragazzi sono stati colpiti da questa foto, un piazza delle companie grazie, molto molto abbastanza, molto bella.